Salve e benvenuti in una nuova puntata di Studio Noesis. Nella puntata di oggi iniziamo il corso di storia della filosofia moderna, un percorso che ci porterà a scoprire i grandi pensatori, i grandi problematiche filosofiche che interessano ancora tutt'oggi il nostro modo di pensare, il nostro modo di porci determinate domande. Nella puntata di oggi, la puntata introduttiva, parleremo del Rinascimento. Ne parleremo perché il Rinascimento è quell'anticamera che ha favorito, che ha permesso in tutto e per tutto il passaggio da un'epoca medievale, un'epoca di pensiero, di fondamenti teorici anche medievali, alla fondazione di tutta una serie di nuovi paradigmi, un passaggio che durerà davvero dei secoli, centinaia di anni. Il Rinascimento si basa innanzitutto questo passaggio rinascimentale su due condizioni storiche. Da un lato la nascita della borghesia. La borghesia è una nuova classe, è un nuovo ceto, è un nuovo ceto pericoloso che non è ben visto dalle società strutturate in maniera feudale, ad esempio, perché il borghese è l'uomo che si fa da solo, la borghesia mercantile, ma anche la borghesia delle libere professioni, saranno quegli uomini di umili origini che attraverso una serie di successi di tipo economici arriveranno ad avere davvero tanto potere e arriveranno a insidiare il potere delle grandi famiglie nobiliari. Quindi ci sarà un vero e proprio scontro che, come vedremo, vincerà ben presto la borghesia, tanto che si inizierà a parlare di nobiltà decaduta, la borghesia inizierà a comprare i titoli nobiliari e quindi vi sarà un vero e proprio scontro da questo punto di vista che vincerà in tutto e per tutto la borghesia. E questo è il primo passaggio al moderno. Ma c'è anche un altro passaggio, cioè la nascita degli stati nazionali, la nascita dei confini, confini che in molti casi sono ancora come quelli odierni, la nascita delle identità nazionali, quindi l'esigenza dei popoli di creare delle proprie culture, una propria idea di identità, le proprie lingue, le proprie tradizioni, i propri pensatori, i propri filosofi, eccetera. Ma la nascita della borghesia, recuperiamo un attimo questo punto, sì, sarà importante nel nostro percorso perché si incrocia bene con la nascita della borghesia intellettuale, di un nuovo tipo di intellettuale, un intellettuale che viene pagato laico, quindi non legato al mondo ecclesiastico, che viene pagato per produrre filosofia, per produrre cultura, per produrre pensiero e può creare un tipo di filosofia nuova. Noi sappiamo ad esempio che nel Medioevo la filosofia veniva prodotta all'interno dei monasteri, delle grandi cattedrali, delle grandi università, mentre ora viene prodotta anche dai laici, che vivono presso le corti, che vivono presso le grandi famiglie nobiliari, ma anche a volte che vengono finanziate direttamente, come vedremo, dalle grandi famiglie borghesi. Il rinascimento è un'epoca anche di ritorno, di rinascita. Quando parliamo di rinascimento parliamo di un'epoca che fa riferimento quasi ad un morto che torna a risuscitare. Quindi non è qualcosa di completamente nuovo, perché si cerca di recuperare, di recuperare un passato, il passato che viveva prima del Medioevo, che inizia ad essere connotato come un'epoca oscura, anche se, come abbiamo visto e come vedremo, il Medioevo non fu questa grande epoca oscura, ma fu un'epoca di grandi splendori, i rinascimentali ci tenevano a mettere l'accento su questo stacco da un Medioevo oscuro, oscurantista, ignorante, mentre la loro epoca era l'epoca della rinascita. In molti casi ebbero anche ragione perché furono recuperati tutti quei filosofi classici, Platone, Aristotele, vennero riletti, reinterpretati e soprattutto applicati. Ci furono nuovi rapporti nella gestione della politica, nella gestione con la natura, vedremo Giordano Bruno e Campanella, quindi il rapporto tra filosofo e natura, ma soprattutto ci sarà un nuovo rapporto con Dio. L'uomo rinascimentale, così ci insegnerà Giovanni Pico della Mirandola, ad esempio, nel suo, la dignità degli uomini, che l'uomo è padrone di se stesso, l'uomo è padrone del suo destino, e quindi nasce già una nuova concezione, mentre nel Medioevo l'uomo era, anzi, era totalmente abbandonato, Dio era il centro di tutto l'universo umano e l'uomo era il suo satellite, qui invece l'uomo è il protagonista della vita terrena, Dio è qualcosa che si sarà sempre al centro, ma nell'aldilà. Ora qui è l'uomo a ricoprire una grande importanza. Ma attenzione, non vuole essere un significato antireligioso questo. L'uomo rinascimentale non è ancora un uomo che vede la possibilità di un destino senza Dio, ma è un uomo che ha un legame particolare, nuovo, rinnovato con Dio, in cui l'uomo, plasmando il suo destino, plasmando la sua storia, la sua vita, può rendere orgoglioso Dio, potremmo dire, può assolvere ai compiti che Dio gli ha affidato. Insomma, per l'uomo rinascimentale avere una vita piena, anche, e attenzione questo sarà un altro punto, di piacere, di benessere, sarà sinonimo di rendere un servizio a Dio, adempiere al compito che Dio ha attribuito all'uomo. Il rinascimento è un'epoca di frattura, è un'epoca di rottura. Questa fu la tesi avanzata da Burcard, un grande storico, nella sua immensa opera, ormai un classico della storia, eccola qui, ve la presento, è la civiltà del rinascimento in Italia. Questa opera, Burcard, sosteneva che il rinascimento era stata un'epoca di grande rottura col Medioevo, grande rottura che era avvenuta ed era iniziata in Italia. Ma ci saranno anche altri storici, mi viene in mente Burdac, che invece sarà un grande sostenitore della tesi discontinuista, scusatemi. Quindi il Medioevo non è separato da una frattura, ma è una evoluzione. Il rinascimento è l'appendice ultima di un processo di evoluzione. Ma andiamo a vedere qualche nome, qualche nome di questi rinascimentali, di questi umanisti. Innanzitutto il primo, il più celebre di tutti, sarà proprio Petrarca. Nato e vissuto nel XIV secolo, Petrarca scriverà un testo sull'ignoranza sua e degli altri contro Averroè, o perlomeno contro la filosofia di Averroè. Ma potremmo dire che Petrarca non avrà in simpatia tutti quegli autori arabi, tutta quella filosofia medievale, quella scolastica medievale tanto complessa e tanto, potremmo dire, futile da un punto di vista della visione rinascimentale. E andava semplificato l'approccio, tanto che Petrarca sarà un grande sostenitore della reimpostazione agostiniana, riesumerà e leggerà Agostino, leggerà San Francesco. Il mondo medievale andava rivisionato, andava recuperato nelle sue radici primitive, nei suoi primi autori, nei suoi primi grandi padri della Chiesa, e soprattutto andava messa al centro il rapporto che l'uomo ha con Dio. E non c'era ovviamente nulla di meglio che, ad esempio, un autore come Sant'Agostino. Ma ci saranno altri grandi umanisti, mi viene in mente salutati Coluccio, o Leonardo Bruni, il suo allievo. Anche lui un grande umanista che porrà al centro della sua speculazione la vita attiva, l'azione. Questa era anche una grande impronta dell'imporsi della società borghese, dell'uomo d'azione, dell'uomo attivo. Di contro, invece, a un medioevo che potremmo invece analizzare, sintetizzare come un mondo contemplativo, un mondo di meditazione, un mondo di conventi, di cattedrali e di abbazie. E infine abbiamo Lorenzo Valla. C'è anche una famosa casa editrice che omaggia col suo nome questo personaggio. Lorenzo Valla escrisse un testo sul piacere che amplificava, elogiava i piaceri della vita. E anche il cristiano non doveva vivere di privazioni per Valla, ma doveva ricercare il piacere. Era compito anche del cristiano ed era desiderio del cristiano, doveva essere desiderio del cristiano ricercare il piacere. Ma non solo, non è finita qua. Lorenzo Valla sarà famoso anche per la grande dimostrazione. Lui dimostrò che l'editto di consegna, la consegna, la donazione di Costantino era un falso. Costantino non aveva mai redatto la donazione, ma era stato qualcosa che era stato creato secoli dopo per giustificare il potere temporale della Chiesa in Italia. E infine, concludiamo questo piccolo episodio introduttivo, ci sarà anche un rinascimento europeo. Sicuramente sarà un rinascimento più duraturo, avrà più successo. Infatti il rinascimento in Italia avrà il grande merito di iniziare in Italia, ma poi avrà una forte battuta d'arresto. Invece il rinascimento in Europa avrà una grande fortuna. Una grande fortuna, citiamo due nomi, Erasmo da Rotterdam ad esempio, o Montaigne. Questi filosofi avranno anche un grande influsso sulla filosofia successiva, ma avremo modo di vederli nelle prossime lezioni. Io spero in questa piccola introduzione di essere stato chiaro. Ovviamente segui la pagina se ti interessa la filosofia, la storia e questo tipo di contenuti e metti un mi piace al video. Scrivimi nei commenti se per te ha influito anche in questo passaggio altre caratteristiche, altre dinamiche. Intanto io ti saluto e noi ci sentiamo in una prossima puntata. Intanto grazie mille.